Dietro il portafogli, un cuore ancora c'è, amico certo, e ti ricorderai, e morbidoi le cazzate fra di noi, la prima esperienza fallimentare, chieda a lei, amico, e da ieri le vele, le hai spiegato ormai, e tu ragazza, un cuore, Garrosini, se la mano andava a scoprire, ritorna a pensare che sarei madre, ma di chi, di lui, che non c'è in te, che non si dica, figlio di io e te, lo stesso. Quando siete belli, eccoli, eccoli. E vai, se vuoi andare. Eccoli, eccoli, fatevi, fatevi a voi, stessi, un applauso, eccoli, eccoli. A me siete imbarzammati, oh dai, vai, 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 eccoli, che meraviglia. Grazie. No, e voglio vedere scatenati, voglio vedere i gipetti che volano, ci siamo? Uno solo, mi ha detto sì, è il buono che sta là, di cos'è il sistema. Questo è un medley, mentre partono le note, la conoscete al triangolo? La conoscete vivendo? Eh, non c'entra niente, non c'entra la canzone, vai. Qualcuno è prima, eh, chi non batte le mani, non arriva domani, quindi, verrà quando, eh. Scalta, ahhh, ahhh, lo vedete? E poi, a me sta cosa mi fa un po' ridere, perché ci sono quelli che ovviamente tentano un antitodo, però o batti le mani o trovi il sistema, vai. E poi, 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 io non parlo come Michael Jackson e sono a FIFA. Che strano esista, anch'io, sotto il tuo senso detto, quello che siamo noi, è un letto ormai di sfatto. E senza più avvenire, senza più dignità, con il verevo del povere. Nella mia schienità, se però che ero ribelle, se ci credevo un po', a questo sporco d'orincanto io, io non mi piegherò, non mi piegherò. Morire qui, io non vorrei, sarei qualcosa, dovunque andrei. Morire qui, sotto gli occhi tuoi, e dimostrarti che hai vinto ormai. No, morire qui, ma non mi piegherò, morire vantare, ma non mi piegherò, e dimostrarti che hai vinto ormai, e dimostrarti che hai vinto ormai. Mio, vai, mia, 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 morirebbe, no, vai, 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 casino, vai. L'indirizzo ce l'ho, rifarciarti, non è un problema, mi telefonerò. L'indirizzo ce l'ho, rifarciarti, non è un problema, mi piegherò, il pretesto lo sai, un quattro dischi e un po' di dischi, sarò grande e vedrai, fammi spazio e dopo mi dirai, che maschio sei, poi. L'indirizzo ce l'ho, rifarciarti, non mi piegherò, non mi piegherò, il suo volo, rifarciarti, non mi piegherò, io volevo incontrarti da sola, se fai. Mentre lui, lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? Lui com'è? L'indirizzo ce l'ho, rifarciarti, non mi piegherò, io volevo incontrarti da sola, se fai. Lui chi è? 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 Lui chi è?